Grazie a tutti e seguirò l'adagio affettuoso della sonata numero 2 opera 99 di Johannes Bramsa E vai! Ma lei chi è? Dove pensa di essere? Lo scusi è mio padre la sua prima volta qui non è abituato Va bene cominci E lei non disturbi più Ammonito Rigore! Scusate che dico ci vuole rigore un gran rigore per suonare così bene Bramsa Basta Basta Basta